ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su lele king tv con questo figu pronostico ragazzuoli della champions league 2020 2021 andiamo a pronosticare la partita che si giocherà il 16 marzo mercoledì no martedì scusate 16 marzo tra real madrid e atalanta è la gara di ritorno real madrid ha vinto 1 a 0 all'andata a bergamo quindi ragazzi partita da ribaltare per l'atalanta speriamo bene che riesca a ribaltarla forza tea e non sarà facile però penso che la juventus ormai uscita è rimasta l'atalanta e la lazio ma la lazio ha perso 4 a 1 contro il bayern monaco e deve giocare fuori casa e poi ragazzi sapete che sono tifoso da roma quindi spero che la lazio non la ribalti comunque detto questo ragazzi facciamo il tifo per la tea perché forse ha più chance di poter diciamo così ribaltare i risultati poi sarebbe una cosa fantastica vedere la tea andare avanti in questa competizione come al solito faremo lo spacchettamento col figuro pronostico quindi metteremo a sinistra il figuro del real a destra quelle della dell'atalanta al centro tutte le altre e al termine del video faremo il cielo mi manca al termine lo spacchettamento faremo il cielo mi manca quindi restate collegati per vedere se riusciamo andare avanti con questa benedetta collezione allora ho subito real madrid con vinicius junior la racing star e quindi 1 a 0 poi abbiamo fernardigno e la port per quanto riguarda manchester city dai dai no baskets 2 a 0 per il real madrid 2 a 0 sani marchesin del porto 2 a 1 gym city per l'atalanta non è facile a questo punto dovrebbe finire 3 a 2 per poterla ribaltare onana portiere dell'ajax abbiamo ancora due bustine ragazzi 2 a 1 però si mette male si mette male sul 2 a 1 si mette male rushford raffigna eder nagatomax giocatore dell'inter colesterman bentancur della juventus raffael escudero del sevilla e van de bick del manchester united ragazzi ultima bustina dovremmo trovare due figurine della dea per poterla ribaltare altrimenti anche la dea è fuori troviamo ansufati la racing star quindi niente ulmer kimbembe karaev sanson zupkov baskets bolbat baklik e ba quindi due a uno per il real madrid questo è il pronostico fatemi sapere sotto nei commenti il vostro pronostico poi restate collegati perché adesso sistemerò le figurine le andremo a attaccare sul nostro album ok siamo pronti iniziamo subito con il real madrid la prima figurina abbiamo trovato del real nella numero 15 che c'è eccolo poi andiamo al barcellona dove troviamo al numero 9 che ci manca ragazzi buona questa questa è buona ragazzi questo è veramente buona meno male ci ha detto bene la numero 9 l'abbiamo attaccata poi andiamo al seviglia dove abbiamo trovato la numero 3 che c'è eccolo che il portiere del seviglia poi abbiamo anche scudero ce l'abbiamo al sevilla ci manca solo lo stemma andiamo al manchester united quindi liverpool dove ci dovrebbe essere il manchester del manchester ce ne mancano 4 quindi può darsi che troviamo qualcosa di buono la 7 ce l'abbiamo quindi niente e fernardigno quella 11 ce l'abbiamo che sfiga ragazzi ne avevamo trovato due e tutte e due non buone rushford da lì sopra ce l'abbiamo del manchester united e anche van de beck poi dobbiamo andare alla juventus noi abbiamo la numero 12 bentancourt ci manca anche bentancourt e sono due eccolo qua bentancourt poi andiamo all'atalanta quindi saltiamo l'inter andiamo all'atalanta gym city col numero 6 c'è bayero e monaco il numero 14 sané ce l'abbiamo anche lui poi abbiamo la numero 4 dell'ipsia eccolo poi andiamo al paris san germain l'abbiamo il numero 5 e ce l'abbiamo olympic marsiglia c'è nagatomo con il numero 11 c'è c'è poi abbiamo san son dove è san son ecco l'altro doppione andiamo alla locomotive mosca le troviamo al numero 17 che c'è header e c'è anche lui eccolo qui ed è doppione andiamo al porto che ha eliminato la juventus come sapete qui abbiamo trovato il numero 3 che è il portiere marquesin giocatore argentino e ce l'abbiamo poi lo shaktar che se la dovrà vedere con la roma nella partita di ritorno una roma che ha fatto una grande partita nell'andata questa ce l'abbiamo e poi abbiamo la numero 8 che no aspettate c'è qualcosa no questa è la numero 8 questo è l'istanbul mamma mia ragazzi che errore ecco qua la 8 dell'istanbul ce l'abbiamo dell'ajax onana ce l'abbiamo poi dobbiamo andare alle poff abbiamo poff 20 come prima figurina a attaccare ce l'abbiamo ragazzi stiamo trovando antitoppioni ma è normale poff 40 eccola poi olimpiacos col poff 68 c'è eccolo ne abbiamo un'altra dell'olimpiacos che è poff 70 e c'è anche questa da qualche parte eccolo che raffigna poff 84 c'è poff 93 c'è perché qui ce l'abbiamo tutte complete poi abbiamo i racing star ragazzi io ne andrei neanche a controllare perché i racing star abbiamo finito da un pezzo e sono ansufati e vinicius junior quindi ragazzi abbiamo messo soltanto due figurine io a questo punto vi saluto e ci vediamo nel prossimo video che sarà il figo pronostico della partita fra Bayer Monaco e Lazio ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti